Arriva dalle nuove telecamere entrate in funzione il 12 aprile scorso, l'ultima stangata per i piacentini. In un mese e mezzo i nuovi varchi elettronici in Via Landi, Via Scalabrini e Via Santo Stefano hanno registrato una media di oltre 1.600 sanzioni a testa. In totale sono state 18.249 le multe emesse nei primi cinque mesi del 2013 a seguito delle segnalazioni delle 12 telecamere che sorvegliano la zona traffico limitato. Nel 2012, sempre da gennaio a fine maggio furono 11.225 ovvero 7.000 in meno. La crescita così rilevante si spiega con l'entrata in funzione dei nuovi occhi elettronici che in poche settimane hanno fatto strage di automobilisti. Ma era già successo nel 2008 con l'entrata in funzione di nuove telecamere. In quell'anno c'era stato ovviamente un elevato numero di sanzioni che poi è progressivamente diminuito anche perché gli automobilisti inevitabilmente imparano che occorre rispettare la ZTL e i mezzi di dissuasione come le telecamere. Questo credo che sia un trend normale. Quest'anno saranno piuttosto elevate queste sanzioni in prossimità della nuova telecamere. Ritengo che poi il trend sarà più contenuto. La media mensile degli accessi non autorizzati ai 12 varchi ZTL è di 3.650, vale a dire 121 al giorno. La sanzione è di 80 euro a cui vanno aggiunti 15 euro di costi di notifica. Al comando di via Rogerio della polizia municipale lavorano sei agenti e due amministrativi all'ufficio ZTL. Il controllo sui fotogrammi che arrivano dagli occhi elettronici è molto rigoroso. Fotogrammi che la macchina non ha riconosciuto come autorizzati vengono proposti all'operatore. Quindi possono essere i veicoli non autorizzati o semplicemente quelli per i quali la macchina non trova la targa in banca dati. Nel caso ci sia invece una targa come questa che non è stata trovata in banca dati, lui la propone e l'operatore la conferma. Questa targa confermata tramite un procedimento informatico anche abbastanza complesso viene inviata alla motorizzazione e quindi ritorna, in questo caso non all'operatore ma alla gente perché viene tramutata in verbale.